Azzurra è immediata, una dei consiglieri comunali neoeletti con un risultato soddisfacente, 451 preferenze. Insomma, quali sono le tue impressioni rispetto a questo successo che hai avuto? Sicuramente è un lavoro di squadra, è stata una campagna elettorale entusiasmante che ho condotto insieme al neoeletto consigliere Gaetano Marino. Ho girato tantissimo, ho conosciuto tante persone e sinceramente sento di dover pubblicamente ringraziare i tanti, ma davvero le tante persone che hanno voluto credere in questo progetto politico, un progetto nel progetto se vogliamo, perché uscire in coppia in ticket dal primo momento è stata sicuramente una scelta di condivisione immediata di quello che noi volevamo e vogliamo rappresentare per questo Paese. Quindi un lavoro di squadra, sicuramente quello che è sempre alla base di un grande successo, il lavoro di tutti. Ecco, l'episodio caratteristico che ricordi in questa campagna elettorale? Sicuramente è di questo mio onoro, le tante persone che avvicinavano Gaetano e dicevano ti votiamo perché sei una persona per bene, anche se non ti avessimo incontrato ti avremmo votato. Quindi questo per dire che cosa che la politica può e deve ancora essere il luogo dove sono protagoniste le persone che sentono l'amore per il Paese. E io mi sono sentita onorata di poter essere anche io presente in questo successo elettorale, perché è davvero il successo di tutti. In questa scelta di vivere in questo modo la campagna elettorale, solo Antonio Visconti poteva essere la persona che poteva e può rappresentare questi valori, di lealtà, di correttezza, di professionalità e di competenza. Non immagino altro per il bene di questo Paese. Lo dico personalmente, lo dico a nome di tutte le persone che ci hanno votato, che hanno voluto appoggiare questo progetto politico con Antonio Visconti, sindaco.